ok passi molto veloci ma molto ravvicinati tra di loro e cammina sempre una riga dritta la volta è un animale nocturno che si muove esclusivamente di notte perché va a caccia a preda degli altri animali chi è che è preda in questo periodo? o gli scogliattoli o le lepre perché le lepre non hanno una casa come noi dove dormono intanto dormono dove c'è l'erba non dormiranno sulla neve e se ci fosse tante neve nei rami bassi nei rami basali lì la neve non c'è entra dentro sotto la neve e dorme vicino al tronco perché già con la neve e con i rami basali si crea un microclima è sempre freddo un conto a dormire fuori a meno 10 un conto a dormire a meno 5 5 gradi di differenza fanno proprio la differenza perciò la volpe lo sa e continua a cercare ok?